Bella a tutti ragazzi sono i Vicks Max e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi Oggi siamo di nuovo su Clash Royale Perché oggi è il nostro primo reset stagionale su Clash Royale Dopo essere arrivata a 5.000 coppe Questo qua è il nostro nuovo reset Volevo farvi il video quindi in questo video uscirà martedì Mettete like, iscrivetevi al piacere della campanella Volevo salutare Giuliano Bellino Ciao Giuliano Bellino come stai? Se vedi il video scrivi ciao nei commenti E niente ragazzi Oggi è il primo reset stagionale Andremo a fare due o tre partite con il mio deck Che bello sono molto contento Il nostro primo reset quindi abbiamo droppato da 5.174 copie a 5.087 Cavolo, cavolo un bel po' di roba Lo sblocco Lo vediamo Ah dobbiamo anche ritirare un premio Lo ritireremo in un altro video Oggi non giochiamo in 2.6 In ladder perché abbiamo già giocato ieri Basta 2.6 Basta 2.6 Andiamo a recuperare un pochino Di coppette Ragazzi mettete like, iscrivetevi e attivate la campanella Cercate tutti Etics Max su TikTok e su Bigolive Se non avete Bigolive scaricatelo Se iscrive Bigolive su App Store Sono in live ogni giorno alle 17 Tranne il giovedì che non sono in live Eh livello 14? 14? No 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 Ho paura pure di partire Sto qui c'è il livello 14 Oh mago Eh Ah ma mi ha fatto neanche il diamond Mago E allora Ho paura Ma io devo fare così Il cannon devo mettere anche E mi sento che la perdo Non so perché Non so per quale motivo Motivo però Allora Il mio gran cavaliere prende il bombone E muore Speravo che andasse a torre Però muore Lui è livello 12 Io sono livello 11 Oh madonna La sparchi Madonna Che odio di più sono questi Allora io non so se devo partire però Non so cosa fare Quindi Allora con la zap lì Allora non so se l'avrei messa io Allora Qui devo Gran cavaliere per forza E qui Adesso io mi arrangerò in qualche modo A difendere la valchiria Magari con un cannone Se si muove Eh però vedi Non ho fatto in tempo L'ho messo ma Eh ma no Ma questo qui non è Cioè questo qui è proprio imbattibile Allora se magari il gran cavaliere Sorge un attimo indietro Però il cannone alla fine Mi è servito eh Cioè ragazzi Mi è servito il cannone alla fine Adesso questo qua mi dà un bel po' di elizir Potrei un attimo Pensare di ripartire Potrei fare un bel push adesso La sparchi Mamma mia ragazzi Mamma mia la sparchi Eh sì la sparchi Il gran cavaliere Qua mettiamo un log alla cavolo Proprio per Prendere un po' meno danni Scheletrini Non riesco ancora a metterli a triangolo Non riesco Ho fatto la torre Non riesco ancora a mettere Gli scheletrini a triangolo Non so perché Ragazzi ho fatto la torre Non mi sono neanche accorto Mettiamo questo Mettiamo questo Allora guarda Per me quel golem di elizir L'ha fatto perdere Perché mi ha dato un botto di elizir Ecco mettiamo un log Tanto Allora Allora se il mio gran cavaliere dovrebbe Togliermi No no ma lì Non c'è bisogno di giusti Spero Eh no invece sì Perché sennò Sto i tuoi mi fai la torre No però ho preso troppi danni Guarda quanto elizir Mi sta dando questo Allora lui mi ha fatto quasi due torri Però lui me ne deve fare ancora una Ragazzi Potremmo aver battuto questo Allontaniamo il più possibile Questo qui non c'ha spell giusto Non è Ah no c'ha solo la zappa Ragazzi Prima partita vinta C'era pure il dallo infernale sul centrale Quindi magari avrei fatto del tre corone Prima partita vinta Comunque Non credevo di vincerla questa Perché comunque Aveva un deck Molto forte Aveva tutte le carte altissime Quindi Un po' così 5 Siamo tornati a 5100 coppe Facciamo altre due Dai Andiamo avanti Intanto facciamo le maestrie Andiamo avanti nel pass Sto con un altro livello d'oggi Mi sembrano molto rivelati Questi Però finchè li battiamo Mi va bene Cannone per ciclare Questo qui non mette niente Magari Magari non c'ha la connessione Quindi proviamo a partire Noi con un domatore Questo qui non gioca? Ragazzi Vabbè Eh fratello No Non so se il drogo infernale Fa in tempo Fammi la torre Non me la fa in tempo Dai muoviamoci Prima che magari Ritorna la connessione Ragazzi Bella sta partita Grazie mille per le coppe Regalate Ti saluto Ti faccio un bel Grazie mille fratello Ti ringrazio fratellino Che mi hai regalato Un po' e po' le coppe Va bene ragazzi Questa partita Non la contiamo Dai Facciamo un'altra Bella partita fratello Grazie mille Grazie mille Tre corone fatte Andiamo avanti nel pass ragazzi Andiamo avanti nel pass ragazzi Meno due giorni alla scuola ragazzi Meno due giorni Mettete like ragazzi Mettete un bel like Fine scuola Mettete un bel like Arriviamo a 50 iscritti 41 iscritti Siamo già Vi ringrazio molto Facciamo l'ultima E torniamo a 5150 Adesso me la scritta sicuramente Torno a 5150 Ma noi ci proviamo Ultima partitella Dai Andiamo ragazzi Questo qua video si chiamerà Primo reset stagionale Ma domani O escerà un video di stumble guys O di heyday Devo ancora Un attimo pensarne Pensarci Allora questo qui è livello 11 Ma non è che nessuno sta giocando Eh magari 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 Zap sprecata Devo rallentare il green che va a dire Mamma mia Il mio drago inferna Però perché Sto qui c'è il drago Il velo 14 Io se mi mette qualcosa Mi metto un cavaliere Ma non credo che Vi servirà Perché vi metto un bel cannone L'ho messo anche un po' Marino Speriamo che non c'è il domatore Questo Ma non vedo tanti domatori Devo essere sincero Adesso me ne mette uno sicuramente Non me la scriptare Lui c'è una coppa in più di me 5147 5146 Siamo in vantaggio Per ora il mio domatoriccio Mi sta facendo un bel par di danni Comunque ragazzi Provate questo deck perché È formidabile L'ho getto per togliere tutto Ah Eh ragazzi Quello il green cavaliere È ottimo Anche se Non so se riusco a difendere tutto Ragazzi Eh quel principio è a livello 14 Devo mettere anche Dei scheletri Non mi piace molto Molto Questo Quello che appena è successo Perché Il green cavaliere Non mi difende Il principe Madonna Sto quindi Non so se la vinco Devo difendere Il suo Attacco Devo difendere Il suo attacco Allora Lui c'è la zap Eh infatti lo sape Eh no Mi è entrato Mi è entrato Non mi ero accordo Mi sono accorto ragazzi Ho perso Ho giocato male Più di così Non potevo giocare Ecco Siamo ancora in vantaggio Ma di pochissimo Peccato Allora Per due Facciamo anche io Un bel attacco adesso Facciamo anche io Allora ragazzi Di solito io non gioco Di attacco Cioè di solito io attacco Solo con l'innovatore Ma mi sembra che qua Il caso è questo Se no non la vinciamo Questa Tacco inferno Aspetta metto un log Adesso Così che possiamo fare Un bel po' di danni Qua Ehi Ai 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 Non mi piace Non mi piace Un altro Gran cavaliere Subito Gran cavaliere Allora Abbiamo fatto così pochi danni Che pensavo di farne il triplo Non mi piace questa situazione Però O facciamo adesso i danni O non li facciamo più Domatore Drago infernal Sottotorre Drago infernal Sottotorre No 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 Se la perdo Mi Sì ragazzi Comunque ragazzi Voglio maxare il gran cavaliere Grazie mille per aver guardato questo video Mettete like Iscrivetevi Attivate la campanella E niente Ciao a tutti ragazzi Vi voglio bene Questo video uscirà martedì Ciao a tutti